Sportiviè torna a parlare di calcio, ma quel calcio che piace tanto a tutti perché è fatto di gioia e di voglia di stare assieme, ovvero quello dei giovani. A raccontarci dell'esperienza della scuola calcio della Riva Rolese è uno dei suoi dirigenti, ovvero Alan Audogenotti. L'obiettivo è quello di partire a step, partendo dalla scuola calcio e poi salendo fino al centro giovanile e cercare di avere ragazzi già tutti qua al chilometro zero senza andare a prendere. Per saperne di più vi aspettiamo martedì 6 febbraio 2024 alle ore 21 su ON TV web. Grazie.